il marzo della settimana eccoci qua yugioh zionisti di tutto il sistema solare se boss non si spacca una mano oggi mi presenta il marzo della settimana di questa settimana di yugioh e il signor cameraman cosa ci ha preparato è andato a ripescare negli archivi storici di yugioh gioco di carte collezionabili e ci ha portato un mazzo che già prendo piatto lo devo intagliare già abbiamo incontrato nel nostro cammino il mac knight 2022 mac cavaliere versione 2022 ovviamente per come l'ha ideata signor cameraman tuttavia se tu hai qualche idea diversa dalla sua prego fai un bel commento oppure fai un bel video anche tu dedicato a il mazzo della settimana di yugioh e noi oggi che facciamo andiamo a gustarcelo il mazzo per come l'ha ideato il signor cameraman dag mac knight 2022 molto interessante questa lista e allora partiamo con il trapè di gir su l'orcus estra mac cavaliere poi mac cavaliere cielo blu trapè con il bigliettino perché sennò boss non si ricorda il nome italico abbiamo il trapè inglesico a seguire 3 per mac cavaliere crepuscolo viola poi mac cavaliere eclisse indaco 1 per mac cavaliere luna rossa 1 per mac cavaliere stella gialla 1 per mac cavaliere orizzonte verde 1 per cadaria il caju polvere di mistero 2 per e in chiusura delle carte mostro 1 per eredità del mondo calice del mondo carte magia del nostro mazzo memoria eredità del mondo 3 per gialla della prosperità 3 per fulmine tempesta 3 per mina mistica 3 per talento tattiche triple 2 per avvicendamento dell'eredità del mondo 1 per chiave eredità del mondo 1 per spolverino dell'arpia 1 per carte trappola segreto eredità del mondo 3 per in permanenza infinita 3 per e sussurri eredità del mondo in 1 per a chiudere quella che è la lista del nostro main deck passiamo all'extra deck vado come sempre a leggere la lista del nostro extra deck dalla lista che anche tu ti puoi stampare dal nostro sito lppcollecting.it nella sezione delicata trovi tutte le liste di tutti i mazzi della settimana che presentiamo extra deck 3 per lib la spadaccina chiave del mondo 2 per me cavaliere della stella del mattino 1 per me cavaliere crociati a aramax 1 per galatea l'automa orcus estra 1 per garden a scudo 1 per ragnolink 1 per l'incuribo 1 per dia del mondo sotterraneo del mondo chiuso 1 per ip mascarena 1 per me cavaliere spettro supremo 1 per arsenale divino a zeus tono del cielo e 1 per di giro su l'orcus estra della stella della sera a a chiudere la lista del nostro deck mech knight 2022 deck mech cavaliere 2022 se preferisci il nome italico per come l'ha ideato il signor cameraman cameraman tuttavia se tu hai qualche idea riguardo a questo mazzo prego fai il tuo commento a questo video oppure perché no realizza anche tu un tuo video dedicato a questo mazzo e dunque anche questa settimana ci siamo visti un nuovo mazzo grazie al signor cameraman grazie a boss e grazie a tutto lo staff di npp collecting.it e allora io ti ringrazio per averci seguito da boss che ti ha presentato il mazzo dal signor cameraman che l'ha montato da mister eric che ha fatto la supervisione da mister goni che ha fatto il montaggio per lpp television da mister lollo la new entry dello staff di npp collecting.it dalla signorina reggine instagram e da joseph in laura il nostro capo è tutto mamma mia quanti siamo grazie 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 a tutti come sempre di seguirci numerosissimi ci vediamo alla prossima goodbye ciao ciao